Ci adopereremo per l'inserimento immediato dei mezzi di trasporto collettivo, una rete fit puntuale di pulmini elettrici per collegare le periferie al centro città, alla stazione ferroviaria, al porto e alle spiagge. Punteremo sullo sviluppo pedonale ciclabile, garantiremo il diritto alla mobilità delle persone diversamente abili, abbattendo le barriere architettoniche, La nostra grande sfida è la nascita della cultura della bicicletta, che deve tramutarsi in una reale integrazione al sistema di trasporto pubblico e non essere confinata al tempo libero.